buongiorno a tutti riprendiamo la lettura del mondo al contrario del generale vannacci ora parleremo del capitolo settimo della famiglia c'è in pratica questo articolo capitolo settimo la famiglia chiaramente il mondo al contrario io sono questa persona che legge il movimento cattolico socialista sponsorizza il generale vannacci e anche lo studio tecnico che organizza tutto il discorso quindi andiamo alla lettura della nel capitolo settimo della famiglia la famiglia è una bambina brava e diligente si comporta bene con gli altri non ho che commenti positivi da fare si vede che ha una famiglia alle spalle sicuramente il miglior complimento che che maestra chiara poteva fare a me ea mia moglie sono figlio di una famiglia tradizionale un padre che lavorava e che spesso non era presente proprio per motivi legati alla sua professione e una madre casalinga che quasi da sola si è occupata di tutte le faccende domestiche e ha allevato cresciuto e seguito me e i miei due fratelli sino alla nostra maggiore età come la mia molte delle famiglie dei miei amici e dei miei compagni di scuola che felicemente sono cresciuti insieme a me sono cresciuti insieme a me nulla di strano dunque perché nella mia situazione si siano trovati moltissimi altri giovani che tra gli anni 60 e oggi hanno condiviso la bellezza di un nucleo familiare tradizionale in cui uno dei genitori generalmente la madre si è essenzialmente presa cura della famiglia anche senza rinunciare al lavoro e l'altro si è occupato primariamente del sostegno economico pur condividendo quando poteva la vita e i bellissimi momenti del focolare domestico la stessa tipologia di famiglia bisogna ammetterlo ha assicurato la sopravvivenza e la prosperità la prosperità della specie umana per millenni almeno in occidente in tanti altri posti al mondo in cui si sono adottati con le varianti del caso modelli familiari molto assomigli al nostro un'istituzione vincente dunque sicuramente perfettibile come tutto ma indubbiamente oggettivamente efficace ricordando il detto squadra che vince non si cambia stupiscono gli stati gli attacchi e le critiche a cui la famiglia tradizionale è stata sottoposta negli ultimi 50 anni da una moltitudine di soggetti che propongono modelli diversi a volte originali estravaganti che dovrebbero soppiantare un istituzione che invece per secoli si è dimostrata più che all'altezza del proprio compito il primo attacco proveniente dal socialismo reale che brama di comunizzare la società e di assegnare alle soli istituzioni statali l'educazione dei giovani che devono essere sin da primi anni di età sottratti alle griffe familiari che ne potrebbero alterare i valori di riferimento questa stessa matrice ideologica impone inoltre che il lavoro severamente gestito dallo stato debba coinvolgere tutti i membri della società rigorosamente tutti ivi compresi i neogenitori per i quali non deve non deve esistere un'alternativa che esulida l'impegno protatto e continuo in un'attività produttiva come se quella dell'educazione della prove non lo fosse alla incredibile bordata proveniente dal movimento femminista che si batte per l'emancipazione della donna oltre a promuovere istituzioni come il divorzio e l'aborto al suono dello slogan tremate tremate le streghe sono tornate si oppone alla figura femminile intesa come madre le moderne fattocchiere sostengono che solo il lavoro ed il guadagno possono liberare le fanciulle dal padre padrone e dal marito che le schiavizza condannandole a una sottomessa antiquata involuta ed esecrabile vita domestica si aggiungono i motivi lgbtq più che introducono il concetto di fluidità sessuale di percezione del sesso e di transgender e che classificano come famiglia un'unione tra due persone di sesso uguale o non importa quale sesso anzi il sesso non esiste è solo una percezione l'importante è che ci sia l'amore tuonano indignati quando poi si rappresenta che una coppia omosessuale non può fisicamente procreare la risposta ormai ciclo oscillata e che ci sono tante coppie etere sessuali che non hanno figli quindi perché scandalizzarsi arriva arrivano poi gli animalisti che sostengono che l'amore che assolutamente non può definirsi affetto è possibile anche nei confronti di una tenera bassiolina e che quindi pretendono essere esteso il concetto di famiglia a chi vive con un gatto un cane un porcellino d'indeo addirittura al maiale non si spiegano il perché dunque scomparsa dal patrocino scomparsa dal patrocino l'adorato a essere peloso non debba avere il diritto di percepire la pensione di reversibilità come invece avrebbe un coniuge o un figlio minorenne il risultato è che la famiglia ha subito durissimi colpi che il termine stesso di famiglia naturale o tradizionale viene messo in discussione che le donne per quanto lavorino non sono spesso contente e realizzate che le situazioni di disagio minorile sono incrementate che la natalità è incredibilmente diminuita e che gli anziani spesso non autosufficienti non trovano più una collocazione se non in quali squali delle case di riposo in attesa di raggiungere la pace eterna quando ripercorro la mia esistenza mi rendo conto che l'unico ed insostituibile punto di forza l'unica certezza il più solo dei supporti capaci di resistere a qualsiasi avversità è stata propria alla mia famiglia qualsiasi cosa succedesse sapevo di poter contare su qualcuno che avrebbe compreso o che anche senza capire o condividere le mie azioni o le mie scelte mi avrebbe comunque aiutato sapevo di poter essere ascoltato di poter trovare compassione o di senso ma mai una condanna per uno come me che vuole vedere me veder mettere in dubbio la famiglia tradizionale sembra quasi un attentato all'unica cosa di indiscutibilmente positiva che la società possa offrire sono convinto che nulla nasca per caso e se la famiglia esiste dai millenni sotto la forma tradizionale un motivo ci sarà il nucleo familiare esiste da quando l'uomo esiste senza scomodare gli antropologi sappiamo che l'unione di un uomo e una donna garantito il prosperare della specie umana la sua evoluzione e il suo benessere all'origine non vi è stato alcun inventore del nucleo familiare non esiste alcun copyright o almeno non ve ne è in traccia all'ufficio brevetti è stata semplicemente l'espressione della natura che attraverso i severi processi di selezione adattamento ha individuato l'organizzazione più efficace per garantire la sopravvivenza della specie ancora prima di esistere il matrimonio la legge la politica lo stato il codice civile forse ancora prima che si disquisisse tra il bene e il male la famiglia garantiva la vita del sapiens se madre natura percorso altri itinerari quello che si evince e che questi tentativi hanno portato a risultati caratterizzati da eccezionale da eccezionalità e da scarsa rilevanza qui tuttavia si inseriscono i detrattori della famiglia naturale che chiamano in causa alcuni antropologi e con il crescere della mentalità del politically correct e della dichiatura delle minoranze si sono moltiplicati anche gli articoli sottoscritti da studiosi che vorrebbero avvallare l'idea che la natura abbia ben poco a che fare con l'organizzazione familiare tipica ora se ci sono state delle organizzazioni familiari che si sono evoluti in senso diverso da quella classica preminente dominante tra la specie umana di tutto il globo e per far fronte a delle situazioni eccezionali che minacciavano l'esistenza della specie umana si fa l'esempio dei raccoglitori dei raccogli raccoglitori cacciatori in cui i bambini venivano gestiti dall'intero gruppo probabilmente questa organizzazione probabilmente questa organizzazione è stata imposta dalla necessità di impegnare tutti gli adulti senza eccezioni nella ricerca del cibo poi nell'estinzione della specie comunque quando i raccoglitori sono progrediti in qualcosa di più strutturato e destinato all'evoluzione la famiglia tradizionale è riemersa prepotentemente si citano piccole tribù e congregazioni etniche in cui si praticano usanze peculiari si afferma per esempio tra i nuer del sudan esiste il matrimonio tra le donne una donna esterile può contrarre matrimonio con un'altra donna sceglierle un amante e i figli nati da quest'unione saranno figli socialmente riconosciuti della donna marito membri del gruppo di quest'ultima benissimo anche qua è ampiamente spiegata la specifica strategia a scocchi perché procreativi e di mera sopravvivenza della specie le nostre società questi problemi non li hanno tutte le collettività volute hanno il problema di non farli nascere i figli piuttosto che di promuovere la procreazione è per questo che ci siamo inventati preservativi le pillole anticoncezionali e l'aborto le eccezioni pertanto come nel famoso promedio confermano le regole e non abrogano nel nostro mondo al contrario siamo arrivati al paradosso dei paradossi chi proporrebbe avere dei figli non li fa e viene dissuato dal farli sia per ragioni economiche ma anche perché ormai si è socializzata l'idea che avere una prole significa rinunciare alla libertà all'emancipazione alla carriera da una vita cosiddetta moderna chi invece i figli non li può avere come le coppie omosessuali è pronto a qualsiasi espediente per ottenere un paio di pargoli sostenendo in questa assurda tensione sostenuto in questa assurda tensione da una pletora di finti moralisti che mentre accostano alla materietà l'idea della schiavitù si inventano il diritto alla genialità e giustificano pratiche come l'utero in affitto per soddisfare i desideri biologicamente contro natura dalle coppie arcobaleno d'altra parte seguendo lo stesso criterio però potremmo affermare che è un ragionevole grado di con un ragionevole grado di certezza che non è nella natura dell'uomo essere cannibale pur accettando il fatto che in alcune circostanze eccezionali in particolare specifiche condizioni anche il sapiens abbia sviluppato forme di cannibalismo per garantirsi la sopravvivenza che il conto egolino chiuso tra le mure della torre del muda se sia mangiato i suoi figli non giustifica la naturalezza di tale comportamento analogamente se alcuni gruppi di individui che la natura ha relegato in ambienti impossibili finiscono per mangiarsi tra di loro ciò non ammette la banalità di una tale condotta in condizioni usuali. Questa chiara evidenza non ci porta a definire l'antropofagia come naturale e normale e non credo potrebbe mai giustificare la vendita di carne umana nei nostri supermercati. Nella particolarità ci porta ai leader il significato o addirittura il termine di normalità. Così che se il creato e la naturale evoluzione dell'uomo ha portato alla quasi totalità delle terre emersi alla costituzione di un nucleo familiare formato di uomo, donne e figli, con le dovute declinazioni del modello, non possiamo invocare le rare eccezioni a questa evidente realtà per affermare che la famiglia naturale non esiste. E soprattutto se non sussistono le condizioni straordinarie per giustificare le eccezioni al modello, perché le dovremmo ammettere in maniera artificiale e deliberata? Solo per dimostrare la nostra inclusività, la nostra apertura all'innovazione, il nostro pensiero evolutivo. La natura non è una naturalità morale, anzi, come ho già sostenuto, la natura non conosce la morale ma ci indica sicuramente alcune regole che sono state alla base dello sviluppo e dell'evoluzione del creato. La famiglia naturale non rappresenta un capriccio etico ma un esempio che la vita ci fornisce come modello vincente nella quasi totalità dei casi. Il fatto che il modello non venga replicato nell'assoluta totalità delle circostanze non toglie nulla alla validità del principio. E in quel poco di fisica che ho studiato mi ha colpito la definizione di orbitale come il luogo dove è altamente probabile la localizzazione di un elettrone. Non abbiamo la certezza, ma se dobbiamo cercare la piccola particella subatomica, è meglio farla in un luogo poiché altrove sarebbe quasi impossibile trovarla. Questa definizione probabilistica non scalfisce affatto la specifica verità scientifica di una disciplina definita esatta come la fisica. Il modello atomico non è affatto messo in discussione, così se la cosiddetta famiglia naturale rappresenta con altissima probabilità l'esemplare di organizzazione che la natura ha selezionato quale vincente, perché ne dovremmo mettere in discussione l'esistenza e l'efficacia? Non è vero che non esiste un modello. La natura è un modello che lo vornisce enorme. E come? Siamo noi che, guarda caso, solo negli ultimi lustri della nostra esistenza cerchiamo di legarne la presenza appellandoci a circostanze situazioni e poco replicate e rappresentate. E la volontà di mettere in discussione tutto, anche ciò che è banale, partendo dal principio che una normalità non debba esistere, che ci porta a criticare quanto la natura invece ci presenta come ordinaria ed inequivocabile costituzione. Allora chiamiamo in causa gli albatross, i bonobo, i polpi, le orate, le lumache e chissà quale altra bizzarra espressione aver creato per cercare di sconfessare ciò che invece ci appare chiaramente ed inequivocabile davanti ai nostri occhi. La normalità c'è, esiste. Non per questo è buona o cattiva, migliore o peggiore, ma non la si può negare in nome di un'artificiale e perpetua inclusività. Con l'evolversi dell'uomo, inoltre, la famiglia naturale ha sempre costruito la cellula della società, l'elemento indivisibile che, sommato ad altri, ha dato luogo a civiltà e culture differenti, tutte caratterizzate dallo stesso comune denominatore. Per quante l'omosessualità esista da millenni e sia stata anche molto ben accettata e tollerata in alcuni periodi storici, essa non ha mai interferito con la famiglia alla quale sono sempre state riconosciute alcune basiche e insostituibili funzioni sociali. La procreazione, l'educazione dei figli e la naturale rappresentazione gerarchica, del modello sociale. Disquisendo dalla procreazione, allora come oggi, per dare alla luce un bambino necessitano un uomo e una donna. Degli 8 miliardi di individui che popolano oggi la terra, senza alcuna esclusione, sono nati da un uomo e una donna. È dunque estremamente naturale che un figlio cresca sino a che non abbia acquisito la capacità di essere indipendente nel nucleo che lo ha generato. Anche in questo caso la regola generale è immancabilmente confermata da poche eccezioni. La genitorialità non legata al sesso esiste in natura ma fa parte dei particolari e specifici casi in cui si è dovuti adattare a tragedie non previste o a condizioni estreme ma sempre preservando l'interesse della perpetrazione della specie. Negli albatross, per esempio, ci sono pochi maschi e moltissime femmine, beati quei pochi. Al momento della riproduzione una femmina si fa fecondare da un raro maschio e si cerca un'altra femmina per aiutarla a crescere il cucciolo. Traslato nell'ambiente umano e con la malizia che contraddistingue solamente il sapiens, la potremmo definire una coppia lesbica, ma il fine ultimo di questo comportamento inusuale è sempre la continuazione della specie che i pochi maschi presenti non potrebbero altrimenti garantire. Potremmo anche scomodare altre specie per trovare esempi che adottano contemporaneamente comportamenti peculiari per garantire la loro conservazione. Ma non sbaglieremmo se affermassimo che nella sagrante maggioranza dei casi è il modello classico e prevalente prepotentemente quello in cui i genitori che crescono i cuccioli sono coloro che li hanno biologicamente concepiti. La pretesa di slegare la generalità dal sesso quindi è alquanto artificiosa e non rappresentativa della preponderante esistenza. Gli istruissimi studiosi ci dicono anche che la generalità è legata alla funzione e non alla biologia. Sarà, ma la natura ci insegna che questa peculiare funzione nella generalità dei casi è assunta da due individui differenti che si identificano nel maschio e nella femmina che hanno procreato. I numeri della classifica sono inesorabili e provano più di ogni altra disquisizione pseudoscientifica quanto affermato. Il tanto proclamato diritto alla genitorialità non esiste né nell'uomo né nel regno animale. Per quanto sia sicuramente fuori luogo parlare di diritto applicato ai fenomeni naturali governati da ben altre leggi rispetto a quelli dei codici giudici è manifesto che in natura sono provenientemente i dominanti ad accoppiarsi. L'opzione di procreare quindi più che un diritto verrebbe definita un privilegio riservato a pochi che, più di altri, danno dimostrazione di quelle caratteristiche rinunciabili a fare progredire la specie. Una vela propria elite che si guadagna spesso a suon di cornate, lotte, morsi, calci e lunghe zuffate e il privilegio di mettere al mondo un altro esemplare della propria varietà. La natura quindi ragiona proprio con una logica opposta a quella che vorrebbe imporre il concetto di diritto alla genitorialità, che in quanto tale dovrebbe essere invece esteso senza alcuna discriminazione ad ogni elemento della società. La libera interpretazione delle norme, la relativizzazione di qualsiasi verità, il tentativo di far prevalere i riseri sulla realtà, sono attività prettamente umane, concentrate negli ultimi decenni e non l'espressione dell'universo che ci circonda. Se sconfitti nel campo del misurabile, per cercare di dare concretezza a quanto non può essere sopportato dai fenomeni naturali ben visibili, i fluidi buonpensanti tirano in causa i legami affettivi che più di un'altra cosa e soprattutto più del sesso dovrebbero caratterizzare il rapporto genitore figlio. Che importa se alla Naga riflessiamo due uomini, due donne, due anziani. Noi ci amiamo e per questo non siamo da meno di chi naturalmente può concepire. Vero, i legami affettivi che si stabiliscono in certi gruppi di persone possono superare per intensità e forza addirittura quelli di parentela, ma di lì a stabilire che i rapporti affettivi solidi siano l'unico criterio per giustificare la genitore realità appare mestificante. Molto spesso definisco il mio reparto militare come la mia famiglia per scelta, proprio a sottolineare il profondo sentimento che mi salda ad ogni altri elementi che condividono con me i rischi, paure, fatiche, gioie, disavventure ed anche, se necessario, la morte. Il cameratismo, altro termine passato purtoppo in disusa perché io lo si è strumentalmente impregnato di ipocrita e artefatta ideologia, sottolinea proprio questo meccanismo. Negli affiatati manipoli in armi i componenti sono sottoposti a rinunciare agli affetti familiari, alle moglie, ai figli pur di mantenere fede al legame che gli stringe tra loro e che si rivela spesso più saldo del giuramento di fedeltà alla patria o alla bandiera. Gli antichi conoscevano bene la grande solidità di questi impulsi e riuscivano a sommare quando necessario la forza del cameratismo, dell'amicizia e dei legami parentali. Nella falange greca e macedone gli uomini prendevano posto a fianco di amici di vecchia data o di familiari e combattevano non solo per la salvezza della comunità e della propria terra, ma anche per il rispetto di coloro che stavano loro a fianco. Il legame di sangue e l'amicizia si fondevano con il cameratismo, ma questa realtà carattizzata da legami interpersonali fortissimi nulla ha a che vedere con la genitorialità. Affermare che al fine della genitorialità l'importante lavora non ha alcun senso e sembra anzi una bieca scappatoia per giustificare qualsiasi cosa in nome di un sentimento. Il cosiddetto amore che viene difeso come sentimento di viva affezione verso una persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercare la compagnia, oppure sentimento che attrae e unisce due persone, caratterizzate dalla tendenza più o meno accentuata al rapporto reciproco ed esclusivo, non può essere connesso tut court con il presunto diritto ad avere figli. Come direbbe il mio professore di analisi matematica, l'amore potrebbe rappresentare una condizione necessaria ma non sufficiente per assumersi la responsabilità genitoriale. Lo sanno bene i servizi sociali di tutto il mondo che prima di decretare l'affidamento di un bambino a una coppia vanno a misurare e ad analizzare molti altri criteri rispetto al sentimento di viva affezione, peraltro non misurabile oggettivamente che sussiste tra due individui. I desideri dei genitori non possono pregiudicare i diritti dei figli che in quanto tali necessitano biologicamente di un padre e di una madre e non servono troppi scodici dell'infanzia per confermare questo principio naturale. Da figlio e da padre mi sono reso perfettamente conto della differente e complementare relazione che esiste tra infante papà e mamma. Non è un'idea sovversiva sostenere alla banale verità che tra uomo e donna abbiano caratteristiche biologiche, fisiche e psicologiche diverse e che queste diversità nella loro complementarietà garantiscono al figlio l'ambiente ottimale nel quale crescere. Anche se il decreto Zan voleva quattamente omologare il pensiero delle masse facendo apparire davanti a un giudice chiunque si opponesse alla biologia di genere che sostiene che la differenza fra uomo e donna sia soltanto una costruzione sociale. Siamo fortunatamente ancora liberi di poter affermare il contrario. Siamo ancora sostenuti dalle nostre esperienze personali perché per quando ami visceralmente le mie due figlie non sarei mai stato in grado di replicare lo stato di benessere e di assoluta serenità che potevo percepire quando uno di loro si attaccava al seno materno. Sempre da padre non mi scordo le ossessive raccomandazioni del pediatra circa l'importanza della madre nei primi mesi di vita del bambino. Ritengo anche che per una madre sia arduo, se non impossibile, sostituirsi ad una figura paterna soprattutto in altre fasi estremamente delicate della crescita dell'infante, alla faccia della sola costruzione sociale di cui parla Zan. E sostenere che negli ultimi trent'anni, una caccata di mosca nella storia dell'evoluzione dell'uomo, la società se sia evoluta e sia cambiata al punto tale che anche la famiglia debba assumere altre dimensioni valori. Appare abbastanza presuntuoso, se non oltremodo pretestuoso. Assolutamente determinanti a far valere le proprie bislacche istanze, i ribaltatori della realtà invocano...